uno dei temi principali di cui si è parlato a qual festival è proprio il problema delle fake news ripreso proprio anche in maniera ubiquitaria da tantissimi eventi qual è la tua opinione ma piuttosto la mia opinione io inviterei qualsiasi attendì qualsiasi lettore di farsi la loro opinione cioè gli esperti che sono stati qui in massa abbiamo fatto diversi eventi in programma sul tema fake news anche da facebook stesso il loro vicepresidente Adam Mosseri secondo me ci sono è un tema il hot potato come si dice in inglese è un tema molto caldo sì ci sono posizioni forti da tutti i lati cerchiamo come festival di offrire la gamma delle varie posizioni in modo che ognuno possa fare la sua valutazione quindi eviterei di dare la mia invito piuttosto tutti quanti a a capire che è un tema complesso le soluzioni la retorica semplicistica e da evitare se tutto due i lati e bisogna informarsi bene sui fatti e credo che in qualche modo il festival ha contribuito questo dibattito che è fondamentale tra proprio libertà di opinione e il ruolo del giornalista appunto di un codice deontologico spetta al giornalista il fact checking secondo lei ma secondo me è un giornalista che non fa in modo costante e serio il fact checking non fa il giornalismo se uno scrive senza attenzione ai fatti che cos'è una forma di romanziere non è un giornalista quindi adesso c'è tanta tensione sul cosiddetto fact checking che è un po' un'importazione americana e qui in italia però il giornalismo da sempre dall'ottocente deve essere dovrebbe essere doveva essere basato sui fatti quindi controllare verificare i fatti mi sembra il primo passo di scrivere qualsiasi articolo il fact checking è diventato un tema anche qui un hot potato perché tanto di quello che si legge oggi è accusato in qualche modo giustamente o erroneamente di non avere i fatti cosiddetti i fatti veri che sembra una contraddizione quindi sì la base del giornalismo è la verità la verità come si valuta fact checking entrato nel lexicon del giornalismo per mancanza di qualità e delle cose che leggiamo però a mio avviso e concludo il fact checking è un elemento fondamentale che c'è sempre stato e ci doveva essere se ci doveva essere essere presente nel giornalismo il suo bilancio su questa edizione 2017 beh siamo qui al sole davanti al brufani qui a brugge con un senso di grande soddisfazione all'opinione di tutti ho parlato con tanti speaker sia stranieri che italiani eccetera secondo noi è il best festival yet siamo all'undicesima edizione sia per il flusso di pubblico che la qualità di speaker abbiamo notato un grande cambiamento diciamo nei ultimi due anni il numero di pubblico o attendis internazionale che vengono a brugge espressamente per seguire il festival è aumentato in modo vertiginoso cioè se uno gira per le sale a brugge si nota senza il minimo dubbio che c'è una marea di stranieri diciamo così gente che viene da fuori italia per seguire il festo questo fa bene al festo fa bene al dibattito fa bene la brugge fa bene all'italia e va sottolineato che il festo è ormai un evento qui in italia che riesce a tirare gente da fuori italia che vengono espressamente per non per in vacanza e passano un giorno a perugge durante il festo sono qui perché vengono per il festo e questo è un grande risorso sia per il festo che la città di perugge e io credo che adesso siamo diciamo abbiamo il momento di continuare a crescere in futuro sopra soprattutto su questo versante il numero di eventi numero sia forse abbiamo raggiunto il massimo e picco perché qui a perugia ci sono certe sale certe alberghe non possiamo crescere sempre in senso numerico però possiamo sempre aumentare la qualità e secondo me la qualità significa la larghezza la gamma di opinione che sono presenti e questo significa sempre più speaker e presenza internazionale e questo è l'obiettivo l'anno prossimo grazie 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 grazie